Siamo qui con Fabrizio Beco dell'Alba Roma, grande vittoria, grande gioco, 1-0. Peccato per quel rigore sbagliato, ma grande partita. Sì, devo dire che c'è stata dopo la partita di mercoledì scorso una bella reazione alla squadra, nel senso che abbiamo giocato quasi tutta la partita nella metà campo avversaria. Peccato che creiamo tantissimo, però non concretizziamo, abbiamo vinto soltanto 1-0, ma abbiamo almeno 4-5 palle nidite oltre al rigore per fare gol e stasera non siamo riusciti. Per fortuna non abbiamo rischiato poi la beffa di prendere gol dagli avversari. Complimenti anche a loro perché comunque hanno fatto un'ottima partita difensiva, molto ordinati e quindi bene per i repunti assolutamente. Grazie a Fabrizio Beco, grande partita e in bocca al lupo per le prossime. Grazie, in bocca al lupo a voi, a presto.